Ed è tutto per questa edizione, la prossima stasera alle 19.35, ma prima di salutarvi vi facciamo vedere due brani del celebre musical di Broadway, West Side Story di Leonard Bernstein, che ha debuttato ieri al Teatro Comunale di Bologna con la regia di Gianni Marras, repliche fino al 17 luglio. Buona giornata. Ed è tutto per la regia di Gianni Marras, repliche fino al 17.35, ma prima di salutarvi vi facciamo vedere due brani di Bologna con la regia di Gianni Marras, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.